e buongiorno e benvenuti a questo nuovo podcast finalmente dopo tanto tempo riesco ad avere un po di respiro per poter parlare di alcune cose vecchie nuove e vecchie e comprese un po meglio sono reduce da un bellissimo weekend che ho passato a ascoltare il grande oscar citro col suo seminario che sta portando in tutto il mondo in tutta italia la medicina della nuova era nel quale sono stato messo di nuovo a confronto con delle cose che avevo comunque già un po acquisito studiato visto in una forma nuova diciamo più che nuova in una forma nuovamente semplice dopo tanti anni di complessità di chiacchiere di svisceramenti di discorsi e gli approfondimenti arriva questo signore di salerno la sua grande simpatia e anche grande semplicità a parlare di cose molto molto importanti dei concetti spirituali molto potenti ma soprattutto io credo che oscar citro sia una di quelle poche persone che incarnano uno dei principi più importanti per un mago errante che cioè un mago errante parla solo di quello che sa che per me ultimamente è diventata forse una delle dei principi più importanti per quanto riguarda la mia attività e quindi da un punto di vista di esperienza pratica dei risultati ottenuti col suo lavoro porta in giro questo sistema di guarigione proprio fisica che passa per l'applicazione di un concetto molto semplice cioè che le malattie sono causate da traumi quindi da conflitti anzi più che traumi ed è da qui proprio che vorrei partire da questo da questo incipit e la la risoluzione cosiddetta dei conflitti e la diciamo spiegazione diciamo la come posso dire semplificazione la rielaborazione di un concetto che viene passato come buono nel lavoro su di sé che però secondo me nasconde un grande rischio questo concetto secondo cui finché finché una lezione un conflitto che nasconde sempre una lezione finché una lezione non è appresa il conflitto non è risolto non si supera la lezione quindi sarebbe perfettamente inutile cambiare la realtà esterna agire nell'esterno senza cambiare l'interno cosa che anche io ho detto per anni cosa che io credo ancora essenzialmente cosa che però bisogna stare attenti perché potrebbe creare potrebbe creare delle grosse malcomprensioni potrebbe creare dei circuiti dei dei circoli chiusi dai quali non si può uscire quindi oggi vorrei appunto approfondire un po questo discorso anche magari correlandolo al discorso che fa oscar proprio sulle malattie io penso che questo discorso sia estensibile a tutto quello che è la vita reale sicuramente sicuramente se uno ha fatto un onesto lavoro su di sé si deve essere accorto di un fatto molto semplice un fatto che vado ripetendo da tanti anni che c'è nella vita spesso un fattore di ripetizione cioè le cose tendono a succedere sempre allo stesso modo con gli stessi contenuti cambiano le facce cambiano le persone ma il contenuto la storia che si racconta è sempre quello quindi è ovvio che o siamo sfortunati noi o al di sotto di quella storia esiste un tema che va affrontato sul come si affronta sul come si risolve io ho avuto tante di quelle idee tante di quelle esperienze conflittuali fra loro perché a volte ho visto una cosa a volte ne ho visto un'altra non trovavo diciamo il il bandolo della matassa anche rispetto ad alcune cose che ho vissuto diciamo negli ultimi due anni e mezzo erano capitate delle cose delle quali io capivo vagamente il senso ma non riuscivo a sentire veramente e sottolineo è molto importante questa parola specialmente per quanto riguarda il vissuto conflittuale che si manifesta sotto forma di sintomo imparare a sentire il senso di quello che accade lo dirò sempre questo sentire nel corpo perché quel sentire organismico è la risposta al problema è parte della risposta è una delle parti più importanti e dunque nel sentire troviamo parte della risposta ma la risposta a un conflitto a un problema deve essere anche tradotta in un'azione consapevole ora sul discorso di azione consapevole potremmo stare a parlare per settimane per mesi e cercare di capire da cosa possa sorgere un'azione consapevole dal mio punto di vista un'azione è cosciente è consapevole quando non viene agita da uno stato reattivo impulsivo quando non viene agita da uno stato appunto di sonno dove le emozioni i pensieri i treni di pensieri hanno il pieno dominio della nostra coscienza della nostra attenzione però è anche difficile riuscire a capire appunto se quando si fa un qualcosa sia veramente un'azione ispirata consapevole oppure no ma non è nemmeno importante secondo me la cosa importante invece sarebbe muoversi cioè fare delle cose perché io ho potuto vedere che in altalune situazioni permanere nello stato di conflitto nello stato di crisi con la con il raccontarsi storie del tipo sto qua per imparare la lezione finché non la imparo non sblocco non risolvo non vado avanti rischi appunto di portare di portare le persone alla manifestazione dei sintomi fisici e questa è una cosa insomma che io come lavoratore su di sé anche come operatore nelle lezioni d'aiuto cercherei insomma di evita alle persone e anche a me stesso bisogna agire la cosa è confermata anche da vati in zeland quando dice appunto che il potenziale in eccesso generato dall'importanza che si dà qualcosa quindi quando cerchiamo di risolvere un problema gli diamo tantissima importanza il rimugginio l'emozione eccessiva la definizione del problema la ricerca delle soluzioni crea un potenziale in eccesso che si manifesta poi in casi di che zelan chiama la forza equilibratrice e zelan giustamente dice che l'unico modo di disperdere questo potenziale in eccesso è l'azione quindi agire piuttosto che cercare le soluzioni o fare il lavoro di consapevolezza su di sé che comunque è imprescindibile e comunque è assolutamente necessario ma può non essere sufficiente questa è la prima cosa che mi è stata evidente quando appunto oscar citro raccontava di tutta una serie di situazioni delle sue pazienti dei suoi insomma di quelli che lui ha aiutato a risolvere le più svariate malattie anche gravissime facendogli cambiare la situazione il contesto il contorno nel quale si verificava appunto la malattia quindi situazioni familiari situazioni economiche e quant'altro mi rendo conto che questa osservazione come anche ho successo sul mio gruppo genera tutta una serie delle esistenze e da parte di coloro dei fanatici del lavoro su di sé della presenza cosiddetta della consapevolezza pura e da parte di quelle persone che quando sentono dire questa cosa purtroppo la mette in crisi le mettono in crisi questa cosa perché sentono questo concetto che debbono agire che debbono muoversi quelle persone che magari hanno adottato il lavoro su di sé come scusa per non cambiare perché purtroppo l'inconscio fa anche questo ma me l'ha fatto per diverso tempo cioè io mi dicevo tutta una serie di cose per non fare altre cose i principi spirituali mi andavano a diventare diciamo una sorta di scusa per non agire ma anche una diciamo un po' un salvagente quando non sai come agire quindi però questa è una cosa è uno stato che va superato l'illusione di permanere in una situazione di abuso di violenza di ingiustizia subita di dolore e sofferenza gratuiti non possono essere secondo me giustificati da alcun concetto che pertenga al lavoro sotto di sé io non credo che questo sia sano soprattutto credo che questa tendenza al martirio questa tendenza all'autofusticazione al soffrire a tutti i costi possa avere una radice molto profonda in un senso di colpa inconscio che ha a che fare con una matrice diciamo di stampo un po' diciamo religioso o comunque acquisito dall'esterno cioè come se nell'inconscio collettivo ci fosse una sorta di associazione fra non so fra il lavoro sul lavoro e la sofferenza quindi che le cose si guadagnano soffrendo e anche questa è una cosa che oscar citro ha messo in evidenza più volte cioè lui dice dice proprio che soffrire non è necessario cioè che comunque le cose si possono imparare anche con l'amore e con la gioia che è una cosa è un concetto che a me sembra ancora oggi un po' troppo neweggiano cioè lo trovo a volte un po' una semplificazione estrema però posso appunto dire che secondo me anche il escludere completamente questa prospettiva è stata per quello che riguardava me una polarizzazione molto pericolosa cioè quelli che stanno un po bene li guardi un po con sospetto perché dice beh questo non sta facendo un lavoro su di sé invece il problema è proprio questo noi abbiamo una inconscia definizione del lavoro su di sé come sofferenza costante e continua e questo ci mantiene in uno stato di conflitto quindi bisognerebbe superare un po questa definizione bisognerebbe andare un po oltre cioè mettere la soddisfazione il benessere non voglio neanche dire la felicità estrema lo yang a tutti i costi ma un'ipotesi di serenità di quiete di tranquillità possibile di miglioramento delle condizioni esteriori bisognerebbe metterlo come possibilità di un risultato del lavoro su di sé se non facciamo questo e se diventiamo appunto degli spiritualisti estremi come molti che ne conosco ma come sono stato anche io chi mi conosce da un po di anni lo sa spiritualisti estremi che negano come ho fatto io ogni forma di manifestazione superficiale nella vita quindi che ne so mangiarsi una cosa che ti piace piuttosto che andare a un concerto piuttosto che nel caso mio comprarmi un cd di musica e a un certo punto io ero diventato uno spiritualista estremo che tutte ste stupidaggini superficiali era tutta roba dell'ego erano tutti attaccamenti e bisognava assolutamente superarli rilasciarli beh questo secondo me è una pericolosissima polarizzazione ed è la radice secondo me questa cosa sta alla base di una precisa nevrosi che ha a che fare con tutto con tutto un argomento che di cui prima o poi parlerò c'è una precisa nevrosi di cui ho parlato in uno dei seminari che affligge molti spiritualisti molti ricercatori spirituali come dice anche oscar è stato bellissimo come lui l'ha spiegato molti spiritualisti stanno in realtà cercando di evadere dal mondo dalla materia dalla relazione perché hanno dei conflitti non risolti coi propri genitori e questa è un'altra cosa con la quale sono dovuta venire a patti perché io che comunque avevo fatto tutto un giro negli stati di coscienza negli studi nel lavoro su desene le esperienze personali con l'energia a certo punto ho dovuto quando se n'è andato mio padre un anno fa un anno e mezzo fa ho dovuto cominciare a scendere a patti col fatto che avevo degli irrisolti con loro e la gente me lo facevano tanto insomma che io ero piuttosto arrabbiato con mia madre con mio padre con tutto il mondo genitoriale il concetto di famiglia e tutte queste cose qua e a un certo punto venendo anche insomma dalla famiglia un po difficile avevo tutti questi irrisolti e questi sospesi e mi sono reso conto che tanta parte delle diciamo delle dei principi spirituali che mi ero scelto quelli come si dice oggi che mi risuonavano di più attenzione perché risuonare è un termine molto 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 pericoloso perché spesso ci risuona quello che ci fa più comodo cioè quando risuonare ha a che fare con un qualcosa che mi fa sentire bene che mi fa sentire a mio agio va benissimo ma dovete mettere in conto che ti fa senti fa sentire a tuo agio vi fa sentire a vostro agio quello che risuona col vostro sistema di riferimento quindi con quello che è la vostra sfocatura in questo momento e quindi può anche non essere qualcosa che vi fa crescere perciò io ho dovuto cominciare a mettere in conto il fatto che c'erano questi problemi e col karma familiare con mio padre con mia madre e incontro incontro appunto rincontro perché sono penso dieci anni che mi leggo i libri libro di oscar che lo seguo un po' qua e là e che mi ero incuriosito di questo sistema incontro oscar citro che fa un discorso molto molto diretto molto straight to the point come si dice in inglese dice ok allora tu puoi fare tutti i percorsi spirituali che te pare poi fa tutte le pratiche ascettiche che te pare puoi raggiungere tutti gli stati di coscienza che ti pare ma se non perdoni tuo padre tua madre non li ami per quello che sono il tuo chakra del cuore non si aprirà mai perché quella è la relazione primaria dalla quale tu assorbi il concetto di amore e questa può sembrare una sovra semplificazione di un concetto molto più complesso che i gruppi esoterici nei gruppi di lavoro di sé viene chiamato il cuore aperto l'avventura del cuore del chakra del cuore che dir si voglia quando sono stato istruito io su che cosa era questo risultato del lavoro mi è stato sempre detto appunto che il cuore è aperto completamente quando abbiamo la capacità di sospendere completamente i giudizi sulla realtà positivi o negativi quindi ha molto a che fare secondo quello che ho potuto intuire io proprio con questa o questa cosa del come giudichiamo la nostra storia familiare i nostri genitori in una catena gerarchica di giudizi che sono iniziati lì perché sono le prime persone delle quali abbiamo avuto appunto delle impressioni positive o negative ritirando questo giudizio questa proiezione ritirando questo questo modo di vederli praticamente viene a cadere tutta la torre di costruzioni che si sono erette sopra questi giudizi primari a queste relazioni primarie quindi io credo proprio che che citro abbia ragione su questo e appunto avendo grande stima di questa persona del lavoro che fa insomma anche del modo in cui lo espone o comunque mi sono messo a fare questa cosa quindi ho dovuto fare questo lavoro antipatico perché non c'è cosa più difficile dicevo anche il giorno sul gruppo qualche giorno fa di perdonare i propri genitori specialmente se abbiamo avuto con loro appunto una storia conflittuale e farlo in questo modo cioè se il genitore invita a abbracciarlo per un tot di 30 secondi dirgli che gli si vuole bene che gli si è grati tenendolo abbracciato pronto per un tot di tempo specialmente se non si è mai fatta questa cosa può essere molto difficile e se invece il genitore non è più in vita scrivere appunto questa lettera al genitore ecco l'articolo su come si apre il ciocato il cuore lo trovate anche sul mio gruppo ma se scrivete a oscar citro comunque ve lo manda e questa è un'esperienza davvero potente trasformativa lo è stata per me sicuramente è stata molto più trasformativa questa che tante altre esperienze spirituali che ci ho avuto perché stati di coscienza perché questa esperienza dell'apertura del chakra del cuore va a toccare profondamente la nostra umanità il nostro lato più umano il cuore l'essenzialità dell'amore che è questa energia di cui si parla secondo me troppo poco e anche a sproposito che è questa energia che spesso nel lavoro su di sé viene dimenticata perché il lavoro su di sé tende a diventare una roba molto meccanica molto di forza di volontà molto di disciplina ma poco di cuore e credo che appunto ciò che possa fare la differenza fra un vero lavoro su di sé e una roba meccanica sia proprio questo questa capacità di amare cioè l'amore vero il sentire dell'amore vero che parte da un chakra del cuore aperto io personalmente da questa pratica sto cominciando a percepire delle forti trasformazioni praticamente immediate anche se non tutte positive che comunque uno sente anche delle cose dolorose che non sentiva ma sicuramente ha un profondissimo impatto su proprio sentire questa cosa quindi questo mi porta poi a riflettere anche su un altro fatto sul quale appunto sto discutendo con colleghi e amici da tanto tempo beccandomi anche qualche insulto perché io lavoro con l'energia da una ventina d'anni ne ho fatte di ogni ne ho studiate di ogni da appunto dal qigong a praticamente tutte le tecniche energetiche conosciute le più o meno fighe mi sono reso conto nel tempo che il lavoro con l'energia da solo non è assolutamente utile può essere una buonissima e politically correct forma di aspirina quindi può allenire guarire temporaneamente sintomi malattie anche gravi perché con i trattamenti energetici ci sono comunque se uno li sa fare ovviamente anche lì bisogna vedere l'operatore come lavora con che cosa lavora e da che stato di coscienza lo fa però tutto sommato è comunque l'applicazione di un cerottino quindi bellissimo anche qualsiasi forma di pratica energetica che possa riconosciuto ma rimane sempre quell'incognita rimane sempre quel problema cioè tu non puoi oggettivamente togliere a una persona la sua storia personale i suoi giudizi sulla realtà il suo rapporto con i suoi genitori le sue opinioni sulla vita le sue convinzioni sul denaro eccetera 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 ed è quella che io chiamo appunto la sfocatura che crea i suoi problemi a tutti i livelli quindi a quel punto e questa cosa una cosa che già avevo capito un anno fa due anni fa insomma quando ho cominciato a trasformare un po la mia attività da fare i trattamenti di prana a cominciare sì facciamo i trattamenti di prana i trattamenti sui chakra ma vediamo anche di capì la persona dove sta quindi questo per fortuna mi ero fatto nove anni quasi nove anni di counseling come sia come formatore che come studente quindi avevo comunque un po di esperienza in questo e c'è stato poi un altro fatto che io ho potuto vedere che appunto anche chi fa il counselor chi fa lo psicologo chi fa il terapeuta e si occupa di questa decodifica dei traumi delle convinzioni della storia personale del paziente se non lavora ad un certo stato di coscienza non può funzionare a quel punto quindi ho visto che lo stato di coscienza influenza la nostra capacità di percepire l'altro realmente l'apertura del cuore determina quanto possiamo veramente sentire l'altro in maniera autentica l'energia a quel punto diventa l'enzima che accelera e promuove la risoluzione dei conflitti la guarigione e tutto il resto ma c'è deve essere tutto questo messo in posizione quindi ho dovuto interrogarmi io dove stavo per esempio a livello di presenza a livello di intensità a livello di attenzione a livello di amore per il paziente per la persona con cui stavo lavorando e me sono dovuto fare un sacco di domande ovviamente le domande sono state risposte in parte in maniera esistenziale dalla vita attraverso tutta una serie di incontri fortuiti in parte attraverso lo studio sui libri però appunto ho capito che il lavoro con l'energia se non viene sopportato da un lavoro di coscienza e da un lavoro sull'amore sul sentire non solo non è produttivo non porta risultati definitivi ma anzi rischia di spostare il processo delle persone da qualche altra parte in questo è stato fondamentale assolutamente fondamentale il lavoro che ho fatto col counseling rogersiano per tanti anni dove appunto ci si allena a stare sul più a stare sul sul cliente a stare sul suo processo e non sul tuo ma questa è una cosa che possiamo appunto possiamo appunto rivolgere anche a noi stessi è quello che si chiama un po la presenza cosiddetta anche se anche lì bisognerebbe fare un lungo discorso su che cos'è veramente il lavoro di presenza ed è una cosa di cui adesso magari parliamo anche qui questo lavoro è andato modificandosi tanto negli anni anche di recente diciamo che l'unica cosa che è rimasta centrale per me è questa trasversalità dell'attenzione che deve essere posta sia sul sul sentito emotivo ma anche e soprattutto sul corpo ma anche sul campo energetico personale da una cosa secondo me imprescindibile una cosa appunto che ci alleneremo a fare tantissimo nell'arco di quest'anno negli incontri che si terranno nell'accademia dell'energia dopo appunto strutturata questa serie di incontri che sono orientati sia alla tecnica ma soprattutto alla coltivazione di un certo tipo di attenzione un'attenzione che come si sottolinea spesso deve essere sempre doppia anche su questo zero è stato insomma un grande non dico innovatore perché è un concetto che si sa da una vita però l'ha spiegato molto bene la presenza secondo me non può prescindere da un doppio da un doppio fuoco un fuoco sulla sull'universo interiore quindi su quello che sono i nostri vissuti soprattutto su quello che chiamo dialogo interno che è molto importante e che è molto sottile il dialogo interiore è una grande sorpresa quando si scopre veramente quello che ci si dice a livello sottile quante quante cose brutte ci diciamo a noi stessi che vengono da fuori ma vengono anche da non so da quello che ci è stato detto programmi installati e tutta una serie di cose e per poter vedere il dialogo interno purtroppo non è una cosa così semplice come si vorrebbe far credere alle persone assi guarda quello che ti dici per poter vedere quello che ci si dice una cosa che ho dovuto imparare a fatica grazie all'aiuto di alcune persone è stato questo rallentare dell'attività interiore da uno stato compulsivo che soprattutto quando si è in condizioni di dire eccitazione emotiva a uno stato rilassato quindi è uno stato di attenzione focalizzata e rallentare sempre bisogno ho dovuto rallentare sempre di più l'attività mentale fino a poter vedere tutta una serie di cose che mi dicevo e fino a poter vedere la catena di pensieri e di programmi che sorgevano dalla sfogatura da dove partivano perché è questa la cosa che secondo me non viene evidenziata abbastanza quelli che io chiamo i pensieri primari per me è stata una grande una grande rivelazione non piacevole ovviamente vedere da dove partivano i miei pensieri primari sul mondo sulla vita sulle persone con cui venivo a contatto e per vederlo dovuto rallentare tantissimo dovuto fermare la mia vita per un periodo lunghissimo perché avevo fatto tutta una serie di cose diciamo compulsive di spinte più o meno violente all agire in una direzione poi certo punto alla vita a forza di schiaffoni e di messaggi più o meno insomma forti mi ha costretto a fermarli per un lunghissimo periodo e mi ha costretto a cominciare ad osservare la radice della mia sofferenza la radice delle mie scelte la radice del mio dolore e ho potuto vedere appunto che questa cosa fondava profondamente le radici dentro a appunto a quello che era il mio sentire rispetto alla mia famiglia rispetto a miei genitori rispetto alle figure d'autorità ho potuto confermare con grande dovizia dei particolari che queste relazioni primarie che noi abbiamo con queste figure vanno a riflettersi inevitabilmente e automaticamente su tutte le relazioni che abbiamo nella vita per esempio facciamo un esempio molto semplice se c'hai un problema con tuo padre c'hai sicuramente un problema con qualsiasi tipo di autorità anche e soprattutto con le autorità spirituali che può essere il guru ma può essere anche semplicemente l'idea di dio quindi quando ho visto per esempio che nella mia idea di dio c'era un forte coefficiente punitivo cioè in qualche modo io avevo questa sensazione che la vita dio ti punisse per i tuoi errori cosa che appunto sostenuta da un'idea vetusta malata e superata del karma ho dovuto anche accorgermi però del fatto che appunto io avevo avuto un padre che era così quindi il padre era una persona di questo genere ogni cosa che succedeva giù le punizioni dove appunto il piacere per la vita sentirsi un attimo tranquilli sentirsi un attimo rilassati e perdonati per le stupidaggini che non fa non era un concetto che mi era stato veicolato non era un concetto che era del mio subconscio non ci poteva stare non potevo neanche rimpiazzarlo attraverso non so affermazioni scambiamento degli stati di coscienza cambiamento dell'emozione perché comunque quella cosa era comunque momentanea alla base c'era questo imprinting di punizione e quindi questo veniva appunto prima o poi riflesso in una serie di conflitti per esempio con i miei insegnanti i miei maestri tutti quelli che sono stati anche un po i terapeuti c'avevo sempre questa cosa qua quando poi ho cominciato a capire a vedere da dove veniva questa cosa qui quando ho cominciato a fare questa cosa del della trasformazione della immagine di mio padre dentro di me ho visto che ha cominciato a cambiare tutta una serie di cose cioè per esempio il mio sentire rispetto a certe persone che credevo che mi avessero fatto del male si è completamente trasformato allora questo secondo me è fare un lavoro su di sé non soltanto stare stare nel dolore stare nella nella contrizione dissolvere tutte queste cose che funzionano e che io continuo a fare perché sono fondamentali ma c'è anche da fare un lavoro differente cioè la comprensione della dinamica e lo scioglimento della dinamica vedendo da dove è partita e se siamo molto onesti con noi stessi se stiamo molto costanti come di mastini che non mollano mai l'osso alla fine fine della fiera si arriva a vedere che inevitabilmente inevitabilmente c'è da perdonare una o più persone del proprio passato e specificatamente spesso e volentieri i nostri genitori questa cosa so che appunto suona un po' nueggiana sono un po' po' semplicistica e appunto quando io l'ho sentita dire a oscar questa cosa mi è sembrata un po' diciamo mi è sembrata un po' troppo semplice in realtà ma questa cosa è stata supportata appunto dai test energetici no lui usa il suo test kinesiologico anche lì io con la kinesiologia c'è un po' di problemi a causa del fatto che ritengo che la kinesiologia sia sotto sia soffra di tantissimi bias tantissimi errori di misurazione tantissime però poi ho fatto dei test incrociati quindi li ho fatti sia col metodo suo che col mio quindi il metodo energetico può vedere sentire i miei chakra come stavano dopo questa cosa in effetti ho rilevato che tutti i miei chakra adesso quasi tutti i miei chakra funzionano a pieno regime soprattutto quello cardiaco che per me è sempre un punto debole quindi a questo punto dopo tutta questa serie di cose ho potuto notare che questa cosa ha molto senso quindi io consiglio a tutti quelli che stanno facendo un lavoro interiore serio di cimentarsi in questo in questa cosa che lui dice di fare cioè questa apertura del chakra del cuore di non limitare con appunto questa procedura che lui indica su un testo che è liberamente disponibile su internet anche sul mio gruppo ma se lo cercate comunque l'apertura del chakra del cuore io ho scarcito lo trovate sicuramente di non limitarsi e di non soprattutto una cosa che voglio appunto risottolineare di non cominciare a dire a se stessi a me questa cosa non mi risuona a me questa cosa non mi sembra una stupidaggine perché spesso mi dicevano per esempio i miei maestri invisibili con i quali sto scrivendo un testo che uscirà tra un po di mesi quando gli parlavo appunto dell'autenticità del sentire ok quindi loro mi dicevano il sentire è sempre autentico è sempre affidabile io gli dicevo ho capito ma io quando ho fatto delle cose seguendo un sentire che mi sembrava positivo e poi è successo un disastro quel sentire non era affidabile loro mi hanno detto come no in quella sofferenza quante cose hai scoperto quanto sei cresciuto quindi perché dici che non era affidabile questo è un giudizio ecco nel lavoro su desee la cosa importante è non non essere superficiali rispetto ai giudizi non dire semplicemente non dire semplicemente no non mi risuona non lo faccio no mi sembra una stupidaggia non lo faccio cioè un ricercatore deve essere anche un pochino coraggioso e andare oltre le sue zone dei comfort oltre i suoi limiti e provare a fare anche cose che gli stanno sulle palle cioè io questo sono molto molto diretto la differenza appunto cioè il la caratteristica di uno che cresce di uno che fa esperienze veramente forti è la sua disponibilità anche ad avere torto anche a mettere in discussione centinaia di migliaia di cose che gli sono state messe in testa dai vari maestri guru e libri con cui ha studiato detto ciò appunto se riusciamo a fare questo tipo di lavoro arriviamo a scoprire delle cose molto importanti per esempio che cose che ci sembravano non risuonanti con noi poi si rivelano degli strumenti incredibili per la nostra evoluzione ok per tornare al discorso della doppia attenzione da cui mi sono un po' sganciato dicevo nella presenza bisogna allenarsi ad avere questa doppia questo doppio punto di riferimento un po' interno un po' esterno cosa significa avere un punto di riferimento esterno a questo punto cioè nell'interno possiamo appunto cominciare a rallentare a vedere i nostri processi di pensiero le nostre emozioni all'esterno dobbiamo cominciare a vedere come la realtà risponde ai nostri movimenti interiori perché c'è sempre appunto una risposta c'è sempre una risposta che si manifesta sotto eventi e sotto il punto l'aspetto di eventi di incontri e le due cose sono sempre connesse per esempio io quando mi sono trovato a lavorare su un certo aspetto della mia insicurezza sul lavoro mi arrivavano tutta una serie di critiche sul lavoro mi arrivavano tutta una serie di persecutori a questo punto il rischio quando dicevo c'è bisogno di un'azione il rischio di un lavoro su di sé condotto unicamente all'interno è il rischio di generare una certa passività rispetto alla vita cioè di dire ok mi stanno giudicando mi stanno perseguitando mi stanno trattando male ma dipende da me quindi sono io che devo lavorare su di me indi per cui non si reagisce e questa è una cosa che mi è stata chiesta da tante persone per esempio che fanno il lavoro col processo della presenza quando michael brown dice non sparate ai messaggeri laddove il messaggero è colui o quella situazione che si manifesta per farti sentire vedere il contenuto che stai proiettando assolutamente sì non spariamo ai messaggeri però michael brown dice anche che appunto il passaggio successivo è quello di congedare il messaggero quindi di allontanarsi dalla dalla fonte di disturbo dalla fonte di conflitto dopo aver incamerato la lezione questa parte finale del lavoro è la parte che a molti sfugge o meglio la parte che molti si fanno sfuggire un po perché mi rendo conto che a volte allontanarsi dalle situazioni non è facile non è possibile però anche perché a volte anche veramente oggettivamente molto difficile però ritengo che invece questa cosa vada fatta per un fatto quando si è in una dinamica conflittuale la dinamica è sempre sorretta da due poli quindi questa storia che viene raccontata nel subconscio delle persone ha a che fare con due o più attori se uno di questi attori si svincola dal copione che viene raccontato dai vari subconsci che si sono messi d'accordo si deve svincolare anche a livello di azioni e se non fa questo e permane nella nella vibrazione della dinamica la dinamica si riattiva a prescindere da quanto lavoro su di noi facciamo sono dovuto uscire personalmente da un paradigma diciamo un po miracolistico dove credevo supponevo e speravo appunto che a un certo punto a forza di fare presenza tutto si sarebbe messo a posto questo in parte accade questo posso dire che in parte accade però purtroppo a volte c'è bisogno anche di agire in certe direzioni per esempio banalmente se non avessi se non avessi fatto sto sto giro con questo corso te ho scarcito però quindi ha coinvolto un'azione mi sono spinto fuori dalla zona di comfort sono andato a fare una cosa da studente non da insegnante fino a una volta ecco se non avessi fatto questa azione io non avrei potuto apprendere delle cose che comunque erano potenzialmente in me perché comunque su certe cose con il lavoro di intensità di presenza c'ero comunque arrivato ma la vita esterna ti dà dei segnali questa cosa dobbiamo assolutamente cominciare a integrarla nel nostro lavoro su noi stessi non è una roba neweggiana a prescindere da quello che le persone dicano che i professoroni della spiritualità vanno dicendo ne ho sentiti un po che diciamo sbeffeggiano questo fatto dei segnali esterni l'osservazione deve andare anche sulla realtà la realtà si muove in base a schemi simbolici a dinamiche a storie che possono e debbono essere capite individuate studiate e rispetto alle quali poi bisogna agire come fare ma è molto semplice in realtà quello che va fatto è semplice da spiegare un po meno semplice magari da mettere in pratica credo di averlo spiegato in una o più conferenze che ho fatto insomma forse di recente la prima cosa che uno dovrebbe cominciare a fare quando vuole decodificare la cosiddetta realtà che detto fra noi la realtà è probabilmente la cosa più importante che ci abbiamo se non la sola utile e vi metto in guardia da dal rischio del percorso spirituale da di scollegarvi dal reale questo è molto importante state sul reale la prima cosa che vorrei farvi capire è che se non guardate i fatti i fatti reali voi la realtà non la decodificate vi faccio un esempio io ho dei colleghi degli amici delle cose delle persone che fanno percorsi di tipo terapeutico energetico mistico spirituale da mille anni da vent'anni da 15 anni e non faccio i nomi delle singole pratiche perché non è che la pratica non funziona in sé per sé ma il fatto che quella persona probabilmente ha bisogno di altro allora queste persone sono 15 20 anni che fanno questo tipo di lavori e non risolvono i loro problemi oppure non li risolvono in maniera definitiva oppure addirittura gli sono peggiorati a quel punto il dato di realtà qual è il dato di realtà è che io faccio una cosa da tanti anni ma questa cosa non mi ha dato i risultati sperati non mi ha dato i risultati promessi questo fatto viene negato in favore di una proiezione che stiamo facendo su quel percorso su quel guru su quel libro specialmente se sono tanti anni che ci stiamo lavorando quindi anche io dentro di me ho dovuto fare dei ragionamenti ho detto io so anni che faccio sta cosa ma ha funzionato nì ma l'ho fatta bene nì quindi innanzitutto vediamo se lo stiamo facendo bene se lo stiamo aderendo a tutti i principi a tutti i precetti a tutte le pratiche a tutte le regole ma se lo stiamo facendo bene e sono anni che le cose non cambiano e questo vale per tutto e vale anche nelle relazioni vale sul lavoro noi dobbiamo metterci in contatto a quel punto col nostro reale sentire rispetto a questa cosa cioè se io sento che oggettivamente questa cosa non sta funzionando io sono tenuto a fare un'azione consapevole cioè cambiare strada perché se non lo faccio e quando non lo faccio è sempre perché sto difendendo una mia proiezione io se non lo faccio rischio di cadere in uno stato molto pericoloso di passività che crea una stagnazione energetica e la stagnazione energetica in una realtà che prevede e funziona secondo un flusso è una delle cose più pericolose in cui ci possiamo trovare cioè si ferma tutto si fermano le relazioni si fermano i soldi si ferma l'amore si ferma tutto la creatività l'entusiasmo se siete in una condizione del genere dove tutto vi sembra molto lento faticoso denso e pesante c'è sicuramente qualcosa nella quale state investendo larga parte del vostro tempo alla quale avete dato un certo tipo di significato che può essere una relazione può essere un percorso spirituale può essere un qualunque tipo di lavoro questo qualcosa non vi sta dando ciò che vi serve per stare bene io personalmente ho capito che a prescindere da quanto lavoro su di sé uno fa se uno poi non fa un'azione per sganciarsi da queste vibrazioni rischia di invalidare lo stesso lavoro su di sé questa cosa appunto la dico e la ripeto da tanto tempo da un po di tempo so che è una cosa che è parzialmente in contrasto con quello che ho detto in passato cioè che bisogna stare 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 e questo a mio parere ha anche senso perché essere nella presenza è assolutamente essenziale vivere in presenza non vivere a caso è assolutamente essenziale ma proprio perché si è in presenza si è nella condizione di essere coscienti di sé si deve anche riuscire a vedere il fatto che certe cose come dati di realtà ci rimandano una energia pesante cioè un'energia di disagio cioè a me sembra che tutti i vari concetti che abbiamo acquisito dai vari autori conferenzieri libri maestri e guru spirituali tutte le epoche specialmente in questo periodo siano andati a costituire un grande ideale di ciò che dovremmo essere di ciò che vorremmo essere un ideale così alto e così lontano da quello che poi siamo che ci impedisce di vedere quello che siamo adesso cioè in questo momento noi chi cosa siamo come sto la domanda più importante che un maggiorrante dovrebbe farsi costantemente è come mi sento e cosa penso e molto spesso questo credere di essere qualcos'altro per esempio questo dire a se stessi magari che ne so obnupilati da una idealizzazione della figura spirituale dire a se stessi io sono un praticante spirituale io sono un adepto un allievo un guru un silguro eccetera eccetera questa non soltanto è menzogna perché ci allontana dal nostro vero sentire ma è un sopravvalutare se stessi cioè un mettersi al di sopra di ciò che poi si è che è un errore che io ho fatto tantissime volte per esempio io mi sono accorto che tanti conflitti non li vivevo non li affrontavo con una dovuta anche un po' in cazzatura che c'è che bisognava tirare fuori perché stavo difendendo questa immagine di me che mi si era costruita con i tre libri che ho scritto e quindi avevo paura questo l'ho scritto anche su quel documento che ho messo qualche giorno fa sul gruppo dovendo deludere questa immagine che gli altri si erano fatti di me come il portatore del posso essere pace anziché questo io mi ero sforzato di aderire a tutta una serie di codici di paradigmi anche nel modo in cui rispondevo alle persone su un gruppo facebook o come mi comportavo con le persone con cui lavoravo che però non era realistico perché sottintendeva il fatto che io non stavo più a contatto col mio reale sentire per non deludere ecco questo è un esempio di ideale ideale di ego spirituale di ideale spirituale a mio parere il rischio di un lavoro su di sé che comporti l'unico sforzo di essere presenti alle proprie emozioni e non agire niente nel mondo apporta proprio a questo porta a una come si può dire un'ipertrofia dell'immagine fichissima che abbiamo di noi stessi quando poi invece il concetto che poi è venuto fuori dopo rispetto alla mia esperienza è che noi siamo anche portatori di un'ombra e anche questa è una cosa che gli spiritualisti puristi della luce non piace cioè specialmente io penso che questo sia una cosa che affligge specialmente quelli che fanno che stanno in una posizione di insegnamento noi ci rifiutiamo di ammettere di vedere la nostra ombra cioè i nostri lati disfunzionali i nostri vizi difetti le nostre mancanze le nostre incongruenze le nostre pulsioni e tutta questa robaccia che comunque abbiamo e che non si può semplicemente sovrascrivere questo è stato il mio grande errore per tanti anni ma è ancora l'errore di base di tanti percorsi che ti dicono che essenzialmente quello che devi fare è sovrascrivere cioè sei uno stronzo vediti che sei bravo sei cattivo vediti che sei buono sei povero vediti che sei ricco e questa cosa secondo me può funzionare soltanto in funzione di quanto tempo e quanta energia spendiamo nella sovrascrittura del programma cioè finché continuiamo a fare un lavoro diciamo di energizzazione del positivo il negativo più o meno viene tenuto a bada ma non può essere tenuto a bada per sempre l'ombra che è questa parte nostra inconscia che tutto ciò che non possiamo non vogliamo vedere prima o poi un metodo per straripare lo trova anche perché l'ombra come tutti i conflitti psichici comunque tutti i conflitti che noi viviamo che so spiega bene anche amer accumulano una carica energetica conflittuale che si accumula in maniera direttamente proporzionale alla durata del conflitto anche con l'ombra è così più la ignoriamo più accumula forza quindi a certo punto l'ideale spirituale l'ideale di perfezione la super disciplina la super la super illuminazione e l'adesione a un ideale cieco di perfezione va a funzionare sull'ombra come un tappo su un vulcano io non guardo più i miei difetti ma li sovrascrivo li copro con un'intensa pratica spirituale con l'adesione cieca a dei principi questo dal punto di vista mio è un enorme errore perché questo crea una emersione del male nella nostra vita siccome questo l'ho detto tante volte e ragazzi purtroppo anche qui essere qui veramente c'è da fare un'onesta riflessione su quello che è la new age il male non esiste ritirare i giudizi su tutta la realtà non giudicare più non significa che se arriva il male io non mi difendo il male è se il male esiste ragazzi quindi c'è una frase bellissima di mer mer è sempre stata molto mer è la compagna spirituale di studia rubindo sempre stata molto punsecchiante sottile c'ha delle frasettine ogni tanto che ti spara là tipo a un certo punto dice per capire cosa è bene cosa è male è molto semplice basta un po di onestà ecco questa è una cosa secondo me che nel lavoro su di sé viene un pochino viene un pochino soprasseduta l'onestà con se stessi e con gli altri per capire cosa è male e cosa fa male a me cosa fa male agli altri passa l'onestà cioè basta guardare che ci sono delle cose che io faccio che creano energia pesante cioè sofferenza ci sono delle cose che mi vengono fatte che creano energia pesante cioè sofferenza questo è attenersi a un dato di realtà e la presenza dovrebbe servire a fare questo a osservare con grande grande determinazione con grande pulizia con grande chiarezza questo fatto e a quel punto se io sono vittima o attore di un'azione che porta scompiglio che porta disequilibrio che porta dolore non posso o vengo se sono ricevo faccio quest'azione non posso più nascondermi dietro il ok questo mi succede perché sto lavorando su di me sto vedendo la mia proiezione oppure dietro il io sto fa lo specchio di questa cosa a lui questo va benissimo come inizio della presa di coscienza ma poi devo agire in maniera coerente con questa comprensione altrimenti la comprensione con tutta la parlo un punto per un'esperienza mia personale se questa comprensione se viene interpretata così ma non viene eseguita da un agire coerente rimane pura astrazione intellettuale e sempre su questo tema dell'ombra del processare questi contenuti anche qui sono dovuto passare attraverso tutta una serie di fasi alterne di comprensione di riaggiustamenti della definizione finché a un certo punto diciamo sono arrivato un po non dico a una definizione operativa di come ci si lavora perché credo che sia impossibile perché i contenuti proiettati sono talmente tanti noi funzioniamo proiettivamente se fate un buon lavoro sul sentire sullo stato di coscienza sull'espansione della consapevolezza vi arrivate a capire che fondamentalmente tutta la vostra situazione interiore funziona da proiettore quindi è un po difficile poi capire dove l'ombra dove non è però diciamo che mi sono appunto dovuto sono dovuto scendere a patti con quel malinteso che viene usato strumentalmente purtroppo da alcuni gruppi spirituali tra virgolette non voglio neanche chiamarli spirituali alcuni gruppi nei quali si dice appunto che è necessario assolutamente imprescindibile ed è l'unico modo di evolvere quello di andare a liberare queste forze e farle agire dentro di noi cioè di lasciarci agire da quello che è l'ombra e tutto quello perché se non si fa così si crea una repressione che prima o poi crea disagi crea malattie crea quanti altre cose a questo scopo e siccome sono tante le persone che quando metto questi post e dico questa cosa si incazzano perché ritengono appunto che lo sdoganare ogni istinto il liberare ogni passione ogni impulsione l'essere liberi c'è questo concetto di libertà che sembra un po un faccio un po quello che mi pare sti cavoli sostenuto anche dal fatto io poi a questo certo punto uno di questi ho detto senti ma se tu fai quello che te pare e fai del male a qualcun altro sta cosa come la vedi ah ma io semplicemente sono il suo specchio queste sono le risposte dell'appartenente io gli io gli sto sottoponendo a lui le sue lezioni quelle che deve ancora imparare ecco questa secondo me non è esprima vita questa è proprio stupidità e follia quindi io credo che invece la cosa importante stia la risposta importante stia in un passaggetto che metto spessissimo sul gruppo di john fortune la quale a un certo punto dice una cosa anche lì guardate subito questa cosa quando si mette un post quando viene detto qualcosa che va a contrariare una delle prese di posizione dell'ego sono i post che ci hanno più commenti di tutti è sempre così perché se è andato a rompere le palle all'ego allora john fortune dice non è la repressione a creare sintomi a creare disagio ma è il non guardare lei per reprimere intende il non agire per reprimere intende io lo vedo ammetto che ce l'ho ma non lo lascio agire e se io potessi dare una definizione sana completa e autorisolutiva del lavoro sul lavoro su di sé direi proprio questo il lavoro su di sé è quella è quel qualcosa è quella serie di attività che ti fanno sviluppare la capacità di non agire tutto quello che ti attraversa e questo sembra semplice sulla carta ma non lo è perché richiede un costante lavoro di attenzione di energizzazione di decodifica di messa in discussione soprattutto anche e soprattutto nei confronti dei nostri diciamo impulsi tra virgolette più bassi so che questa cosa è assolutamente in controtendenza con quello che sta girando su tutta una serie dei gruppi e di altre robe che stanno a girare in questo periodo ma per quello che riguarda me io ho potuto vedere che il vero allenamento non sta nel lasciare nello sdoganare qualsiasi impulso alla distruzione o a sesso di rock and roll e lasciarlo esaurire perché non solo così non si esaurisce mai ma vi distrugge completamente la vostra esistenza garantito testato quindi insomma farlo per farlo per esperienza personale invece la vera sfida il vero lavoro la vera la vera rivoluzione interiore è quella di cominciare a guardare tutta questa roba dal momento in cui nasce al momento in cui cerca di trovare espressione nel mondo e negargli questa espressione e questo crea una grande sofferenza crea un grande attrito crea un grande attrito tra ciò che vuole uscire manifestarsi e fare e quel guardiano che invece sta là e gli dice no tu non puoi passare tipo gandalf col bastone quell'attrito che è lo stesso attrito è la stessa fatica che si sente quando tu non vuoi fare qualcosa ma la devi fa per forza ecco quella cosa lì quella sensazione di cazzo non mi va però lo faccio è il balsamo di guarigione delle ferite interiori ed è il vero il vero risultato il vero come posso dire il vero agente chimico del lavoro su dei sei cioè quando c'è questo sforzo che è anche molto doloroso a volte state sicuri che quella è quantità di lavoro che avete messa in banca lo dobbiamo proprio cercare secondo me cioè per andare contro quelle che ramana marshi chiamava le vajanas le tendenze inconsce noi dobbiamo cercare questo non il a che figo mi risuona mi fa sentire in pace quello è quasi sicuramente rincoglionimento il che non vuol dire che non arriverà mai molto spesso negli quando c'è un intenso periodo del lavoro su se seguono anche dei periodi di profondissima pace di profondissima quiete ma quelli sono momentanei tregue che il corpo di dolore ti dà che si è stancato dobbiamo prenderlo per stanchezza corpo di dolore si accerchia e si riduce la sua capacità appunto di occuparci tutta la coscienza ma bisogna sentire questo sforzo io ho cominciato a capire che quell'attrito quello sforzo quella vincere l'inerzia del subconscio attraverso uno sforzo cosciente è il vero e il vero senso è la vera attività è la vera energia e guaritrice del lavoro su di sé tutto il resto tutto quello che so le esperienze le piccole le cose spirituali le cose del benessere mi sento meglio e figo e bello si sono cose che possono arrivare ma non sono l'essenza del lavoro in questo dobbiamo allenarci e diventare sempre più forti a uscire dal da questo tipo di zone di comfort non nell'uscire anche sta cosa insomma che gira del fatto di uscire la zona di comfort che viene interpretata pure lì un po come fa un po quello che ti pare se cominci a stammare in una situazione scappa io non dico questo la zona dei comfort è principalmente un'abitudine interiore a fare sempre a reagire delle vibrazioni sempre nello stesso modo quindi se io mi sforzo di non farlo più e quindi gradualmente si crea un'altra psicologia interiore perché poi le forze diciamo inconsce vengono scaricate è chiaro che poi cambia anche la mia vita esteriore ok ma la zona dei comfort è secondo me è l'abitudine di reagire alle nostre vibrazioni sempre allo stesso modo cioè mi sale la rabbia mi incazzo spacco tutto mi sale la tristezza me deprimo e parlo a tutti i miei problemi mi sale l'euforia e mi sale la devo uscire a comprare qualcosa fa adesso che compro mi sale che ho fame mangio ecco questo è l'allenamento ok ci dà comfort spesso ci da risuona quello che c'è più comodo quindi in questo vi auguro veramente di essere scomodi di essere sul pezzo sempre di non dormire mai e di sostenere questa vibrazione scomoda perché essenzialmente questo vi dà un grandissimo potere sulla vita e questo anche questo posso dirvi che l'ho testimoniato e per finire questo breve podcast di oggi vi voglio invitare a fare un'ultima riflessione molto importante su qual è la vostra vera motivazione nel lavoro chiunque di noi abbia intrapreso un qualche tipo di percorso l'ha fatto sempre per motivazioni diciamo non voglio di fittizie ma comunque un po di comodo no c'è c'è un problema la voglio risolvere c'è una difficoltà la voglio superare eccetera eccetera ma a un certo punto del percorso vi deve essere chiaro e se questo non vi è chiaro siate molto onesti con voi stessi a un certo punto del percorso vi deve essere chiaro che nessuno degli scopi che vi eravate prefissi per fare un lavoro su voi stessi erano il vero scopo perché mi devo costringere ad essere presente a tutte le mie manifestazioni inconsce per poterle correggere soltanto perché mi fanno soffrire soltanto perché penso che dopo troverò qualche tipo di beneficio questo può essere un buon punto di partenza all'inizio del lavoro per tirarsi fuori da una melma o per realizzare un qualche tipo di ottenimento che può anche arrivare per carità ma alla fine dovreste riuscire a trovare dentro di voi io l'ho trovata dopo tanti anni che facevo questo discorso una motivazione ulteriore che viene soltanto secondo me quando si è visto chiaramente chiarissimamente che non c'è niente di permanente e di definitivo in questa realtà cioè dice benissimo anche oscar citrono inizia proprio così il suo seminario dice tutte le malattie tutti i disagi arrivano dal fatto che le persone delegano la propria felicità all'esterno a qualcosa o a qualcuno la guarigione invece a tutti i livelli avviene proprio quando si mette la propria vita in mano alla cosiddetta anima la quale vive di questa vibrazione nella quale la soddisfazione non viene legata a niente a nessuno un'autonomia diciamo di 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 amore per se stessi più ci si ama in questo modo più si è se stessi 100 per cento meno si delega all'esterno più si diventa autonomi e meno si cerca nel lavoro su di sé qualcosa che non sia la propria realizzazione la propria gioia il che non significa che non abbiamo più relazioni non abbiamo più rapporti con l'esterno o non ci ammaliamo più non ci incazziamo più però il fuoco deve passare dal lo faccio per ottenere un risultato a lo faccio perché sento che è una cosa che ha senso fare per me quando le persone mi vengono da me mi dicono io sto facendo sto cercando me stesso sto cercando quello sto facendo io cerco di farvi capire che queste sono definizioni mentali invece questo sentire di cui vi parlo vi viene a un certo punto dopo aver fatto un lungo giro nella vita dopo aver fatto tanti errori ma anche tante cose belle vi deve venire una sensazione che è tutto temporaneo che è tutto quanto in trasformazione che niente è per sempre che qui si muore e questa temporaneità vi dovrebbe dare la spinta innanzitutto a dire ok ragazzi quasi muore cerchiamo di stare un po bene non soffrire tutto il tempo ma soprattutto anche vi dovrebbe dare la spinta a cercare quel qualcosa di eterno quel qualcosa di durevole quel qualcosa che si trova alla radice di tutto ciò quindi coscienza lavoro su desee sensazione di esistere a prescindere sono il minimo comune denominatore che deve reggere tutto il gioco ok e il vostro lavoro su de voi non può raggiungere secondo me degli ottimi risultati a meno che non facciate questo switch passo dal cercare di ottenere qualcosa passo da un cercare di avere a un essere a un essere presenza ok questa cosa non si può raccontare non si può spiegare si può solo sperimentare lo sperimentate per esempio quando c'è un momento di grandissimo di grandissima devastazione emotivo fisica malattie disturbi disastri e a quel punto a un certo punto sentite se c'è una profonda resa sentite che c'è qualcosa che è permanente cosa sia questo qualcosa c'è chi lo chiama l'essere il sé l'anima lo spirito chiamatelo un po come vi pare per una sensazione di eternità una sensazione di qualcosa che c'è sempre stato e sempre ci sarà che sei tu non si può raccontare non si può definire ma secondo me se a un certo punto cominciate a mettere il fuoco su quello io sul mio libro sulle istruzioni due la chiamo la sensazione di esistere a prescindere quello secondo me è l'incarnazione di quel principio che dice io esisto per me io per me ci sarò sempre e questo piccolo passaggio di coscienza vi potrà aiutare anche a fare questo lavoro che dicevamo all'inizio dell'apertura del chakra del cuore nella misura in cui voi riuscirete a sentire che voi diventate in qualche modo il padre e la madre di voi stessi quindi quando appunto come diceva il citro l'altro giorno quando smettete di delegare la vostra felicità la vostra realizzazione a qualche situazione esterna e questo secondo me è il vero la vera quintessenza è il vero compimento del lavoro su di sé detto questo io vi saluto e ci sentiamo speriamo il prima possibile al prossimo podcast un abbraccio ciao 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 ciao